E quindi, Avvocato Alessandro, l'Onorevole Sgarbi ha deciso di procedere giudizialmente per recuperare il ruolo del Parlamento, della nostra Costituzione, e quindi raccontaci così per sommi capi cosa è accadendo, qual è la vostra iniziativa giudiziaria, quali sono i suoi fondamenti, in modo semplice per far capire alle persone che ci stanno ascoltando qual è il vulnus della questione. Bisogna premettere che in Italia, a differenza di altri paesi come la Spagna o la Germania, il singolo cittadino non si può rivolgere direttamente alla Corte Costituzionale. Questo è possibile soltanto nell'ambito di un procedimento che si chiama conflitto di retribuzione tra poteri dello Stato. Noi del Movimento Libertario da mesi già ci stavamo chiedendo ma com'è possibile che nessun parlamentare, perché il singolo parlamentare è legittimato a sollevare il conflitto di attribuzione, ma perché nessun parlamentare... Lo sta facendo... Certo, scusami se ti interrompo, allora sempre per spiegare al pubblico. In Italia un cittadino, a differenza di altri paesi, purtroppo questo è uno dei bacchi della nostra pur meravigliosa Costituzione, non può rivolgersi alla Corte Costituzionale, la Corte Costituzionale è un organo che stabilisce se leggi piuttosto che altre cose siano costituzionali o meno, ovvero se rispondono alla Costituzione. Ecco, il cittadino non può rivolgersi a questo organo giuridico, a questo altro potere dello Stato per stabilire se un'attività parlamentare o del Presidente del Consiglio o di un altro sia costituzionale o meno, non lo può fare. Lo può fare solamente nell'ambito di un processo, ma è una questione lunghissima e che è incompatibile con quello che sta accadendo, ma lo possono fare i parlamentari. Ecco Alessandro, scusami, per spiegare al pubblico perché un parlamentare deve intervenire e non può intervenire un cittadino, differentemente da altri paesi. Prego. Esattamente, il tema è questo, quello che ha proposto, noi abbiamo conosciuto poi l'onorevole Sgarbi tramite Umberto Carriera che è l'imprenditore di Pesaro che ha fatto delle attività di protesta, lui ha tenuto aperti i suoi ristoranti nonostante il coprifuoco. In quel contesto abbiamo conosciuto Vittorio Sgarbi che ha sostenuto le iniziative di Umberto Carriera e del Movimento Libertario e abbiamo proposto a Sgarbi di presentare questo procedimento di conflitto di retribuzione. Sgarbi non è nuovo poi a queste iniziative, già nel 1998 presentò un conflitto di attribuzione e diede luogo a una sentenza della Corte Costituzionale che aprì proprio la possibilità al singolo parlamentare di sollevare il conflitto davanti alla Corte Costituzionale. Cosa diciamo in estrema sintesi? Diciamo che il Parlamento è stato sostanzialmente espropriato delle sue funzioni, cioè in un paese democratico le leggi le fa il Parlamento, è lì che si ha la discussione pubblica su che cosa si può fare o non si può fare, soprattutto quando si tratta di andare a toccare dei diritti fondamentali, qui parliamo del diritto al lavoro, il diritto alla libertà personale, ricordiamoci che siamo stati messi agli arresti domiciliari per mesi dal governo, il diritto di libera circolazione all'interno del Paese, il diritto ad esercitare il proprio culto religioso, parliamo proprio delle fondamenta della libertà di un Paese democratico. Tutte queste cose sono state messe in discussione non da una legge votata dal Parlamento e anche lì ci sarebbero dei problemi, ma da un decreto del Presidente del Consiglio. Quindi noi siamo in una situazione sostanzialmente al di fuori della legalità costituzionale in cui il governo ha delegato il suo Presidente del Consiglio ad adottare delle norme che vanno a incidere in modo drammatico, in modo terribilmente invasivo su quelle che sono la base dei nostri diritti fondamentali. Quello che dice l'onorevole Sgarbi e che diciamo noi nel ricorso è che questo non è possibile, non è possibile perché la Costituzione italiana non prevede l'esistenza di uno Stato di eccezione, non c'è lo Stato di eccezione, non è possibile derogare alle normali modalità di adozione delle norme di legge che sono la legge ordinaria o in caso di urgenza il decreto legge, ma il decreto legge deve essere deliberato e votato dall'intero governo, non dal solo Presidente del Consiglio, Presidente del Consiglio, deve essere promulgato dal Presidente della Repubblica e deve essere poi convertito in legge entro 60 giorni dal Parlamento che ha il diritto di discuterlo, di modificarlo e di svolgere le sue funzioni di pubblica discussione di ciò che può essere legge e ciò che non può essere legge nella nostra Repubblica. Tutto questo è stato buttato alle ortiche, sull'altare di un'emergenza sulla quale, come dicevi tu giustamente, ci sono quantomeno dei fondatissimi dubbi e l'azione dell'On. Sgarbi nasce proprio dall'angoscia di tutto ciò che sta succedendo, perché noi stiamo vivendo un lento scivolamento del nostro Paese, nemmeno tanto lento, un rapido scivolamento del nostro Paese verso una forma di, non so come chiamarla, dittatura presidenziale, dittatura sanitaria, con l'ulteriore aggravante che buona parte delle misure del DPCM e soprattutto quelle più odiose se vogliamo, non le adotta nemmeno il Presidente del Consiglio, perché c'è un'ulteriore delega. Se uno si guarda i DPCM ci sono tutta una serie di allegati dove ci sono dei lunghissimi protocolli scritti in un orribile burocratese che sfido il cittadino comune a comprendere, nel quale sono adottate tutte queste norme. Quindi c'è un ulteriore livello di delega, il Governo delega il Presidente del Consiglio e il Presidente del Consiglio a sua volta delega, non si sa bene chi, ad adottare questi protocolli che poi vanno a incidere sui nostri diritti fondamentali. Ecco, ma com'è possibile però che noi siamo arrivati a questo punto? Cioè, Alessandro, io tante volte quando sento anche voi avvocati parlare, ma anche altri politici, che lamentano questa cosa, sì, noi la lamentiamo, ma com'è possibile che la Costituzione sia stata così stracciata e i diritti sono stati così cancellati sulla base di una ipotetica emergenza che peraltro non è neanche scientificamente provata. Cioè, che esiste un problema sanitario è vero, ma l'emergenza semmai saranno le persone che non sono riuscite a gestire la questione sanitaria. Cioè, la vera emergenza e il vero virus probabilmente sono loro, perché in nove mesi non sono uscite neanche a sistemare gli ospedali, a rinforzare i servizi di medicina territoriale. Cioè, voglio dire, ma allora gli altri paesi che sono dei geni, la Germania è un paese geniale, perché nonostante abbia commesso gli stessi più o meno errori di noi, però loro non hanno tutti questi morti, la Svezia non ne parliamo, lì stiamo su un altro pianeta. Quindi, come però è possibile che ci sia l'uomo solo al comando, che ricordiamo nel passato l'uomo solo al comando ha generato solo tragedie per il nostro paese, ma anche per gli altri paesi. Cioè, l'uomo solo al comando, la mancanza del dibattito parlamentare e in questo caso anche la mancanza del dibattito scientifico, perché tutto si basa non su un dibattito scientifico, ma su una linea univoca presa da persone che sono state nominate da altri nominati. Cioè, qui ci troviamo di fronte al cittadino che, proprio per la parola democrazia, potere del popolo, delega delle persone che hanno fatto delle promesse a governare, poi quelle persone cancellano le promesse e neanche loro governano, perché nominano terzi che vengono nominati addirittura dalla protezione civile, cioè soggetti privati, burocrati presi di qua e di là, che decidono sulle nostre libertà personali. Cioè, se la pista da sci deve rimanere aperta, se una regione intera, un'attività intera, un gruppo di persone, un settore debba morire o vivere, lo decide un burocrate che non è stato neanche votato. Alessandro, come possiamo essere arrivati così in basso? Cioè, ma neanche le peggiori dittature arrivano a questo? Cioè, un dibattito parlamentare fra persone realmente elette, cioè, deve necessariamente esistere? Come si può pensare che questo sia legittimo? Condivido pienamente la tua analisi. Basta pensare che in questi giorni si sta discutendo se e come potremmo festeggiare il Natale con i nostri parenti e amici. Ma come si permettono? Alla follia. Ma guarda, purtroppo io cito una frase del abominevole comandante della Luftwaffe tedesca, cioè Hermann Göring, che al processo di Nuremberg disse, quando gli chiesero come fu possibile creare un sistema orribile, la persecuzione degli ebrei, i campi di concentramento, e tutto questo. E lui disse molto semplicemente, guardate che questo non è un fatto di dittatura, di fascismo, di comunismo, nazismo e così via, ma si basa su un meccanismo molto semplice, è la paura. Se voi riuscite a instillare la paura in una popolazione, potete indurla a fare qualsiasi cosa. Democrazia, monarchia, dittatura, non cambia niente. E purtroppo è esattamente quello che stiamo vivendo. Ricordo anche che i campi di concentramento, le norme sulla persecuzione degli ebrei erano considerate dai nazisti misure sanitarie, questo non ce lo dimentichiamo mai. Quello che è stato fatto è la sistematica narrazione del terrore. Se noi ci ricordiamo, mettiamoci nei panni di una persona normale che non ha tempo, non ha voglia, non è che si legge siti di informazione alternativa, magari non sente radio radio e si sorbisce quello che passa il convento dei telegiornali nazionali tutti i giorni. Se io mi metto nei panni di una persona di questo genere, questa persona è stata terrorizzata, soprattutto durante la primavera scorsa, quando avevamo tutti i giorni il bollettino dei morti, sembrava di stare davvero in guerra con il commissario Arcuri o il direttore della protezione civile che ci raccontavano quanta gente moriva, ma senza metterla mai in contesto. In Italia muoiono in media 1.700-2.000 persone al giorno, di cui non si parla. Giustamente anche perché ovviamente è brutto morire, vorremmo tutti vivere il più a lungo possibile e senza malattie, ma la morte fa parte della vita umana, ma non se ne parla. Allora nessuno ha messo in prospettiva quello che stava succedendo. Tutti i giorni 100 morti, 300 morti per terrorizzare la gente e la gente è veramente soggiogata da questa sensazione di terrore, di paura che è stata instillata artificialmente da una stampa, televisione, stampa, radio, giornali, che ha fatto il suo lavoro in modo vergognoso in questi mesi passati, perché voi siete una delle poche voci libere, ce n'è qualcun altro, soprattutto poi tra l'informazione alternativa, blogger, youtuber e così via. Ma se io mi vedo Tg1, Tg2, Tg3, Mentana, eccetera, la narrazione è unica, cioè siamo di fronte alla peste del ventunesimo secolo, il virus è terribile, moriremo tutti, vi mettono in ospedale, vi intubano e morirete tra le sofferenze più atroci e quindi la gente si è terrorizzata. E il terrore genera l'accettazione di qualsiasi tipo di misura dittatoriale da parte del governo e questo è quello che stiamo vivendo. Ecco, e questa iniziativa che avete posto in essere insieme all'On. Sgarbi, credi possa in qualche modo, voglio dire, a parte la sua fondatezza, io ho letto qualcosa, anzi la regia credo che abbia una copia, possiamo magari mostrare almeno la testata di questa vostra iniziativa, ma credi che poi in qualche modo possa trovare, abbiamo la fortuna di incontrare uno o un collegio fra i tanti giudici, i tanti collegi, diciamo illuminati in questo paese oppure la roulette russa c'è anche lì? Guarda, la Corte Costituzionale quantomeno per bocca di suoi ex membri, penso soprattutto alla professoressa Kertabia, al professor Flick, negli ultimi mesi sono appreso delle posizioni abbastanza dure per quanto riguarda la diffusa illegalità costituzionale di tutta questa vicenda. Quindi io confido che la Corte Costituzionale sappia essere il difensore, il garante supremo della nostra Costituzione e che quindi possa in primo luogo dichiarare ammissibile e poi successivamente accogliere il rivolso dell'onorevole Sgarbi. Qui, secondo me, la violazione soprattutto del procedimento legislativo e dei diritti fondamentali che sono stati calpestati dai DPCM è talmente evidente che dubito si possano trovare delle argomentazioni a favore di quello che ha fatto il Governo. Tanto più, come ricordavo prima, che lo Stato di eccezione non esiste nella nostra Costituzione. Non è previsto. È previsto lo Stato di guerra, ma ovviamente non c'entra nulla con questa situazione, ma non c'è lo Stato di eccezione. Scusa, mi posso fare una domanda da cittadina comune, lo Stato di guerra, però c'è scritto sulla Costituzione anche per motivi sanitari. Quindi questo volevo capire. Loro possono in qualche modo imporre questi DPCM a causa di motivi sanitari? No. Allora, la Costituzione prevede la possibilità di alcune limitazioni per motivi sanitari, soprattutto del diritto di libera circolazione nel territorio della Repubblica, ma devono essere disposte per legge. Quindi c'è una riserva di legge. Quello che dicevamo prima deve essere il Parlamento a deciderlo e non può deciderlo il Presidente del Consiglio e poi deve essere stabilita in via generale questa legge, cosa che noi non abbiamo. Poi attenzione a una cosa. Noi abbiamo una emergenza di tipo normale, tra virgolette, che è quella della protezione civile, che abbiamo visto applicata tante volte negli anni passati in occasione dei disastri che purtroppo colpiscono l'Italia, terremoti, alluvioni e così via. Lo Stato di emergenza ordinario serve a attivare la protezione civile che deve aiutare i cittadini, salvarli, tirarli fuori dalle macerie. In questo caso avrebbe potuto e dovuto installare ospedali e cose di questo genere, ma l'emergenza serve a quello, ad aiutare le persone, non a togliergli i diritti. Quindi noi siamo proprio al sovvertimento anche del concetto di emergenza. Se c'è un'emergenza il governo ci si aspetta che aiuti le persone, non che le resti in casa. Ecco Alessandro, credo che questo sia il punto fondamentale. A che serve la protezione civile? A chiuderci in casa? No. La protezione civile, come dice giustamente l'Avvocato Fusillo, serve ad aiutare le persone. Quindi se c'è un'epidemia serve a costruire ospedali, serve a reclutare medici, infermieri, per poter far fronte alle eventuali persone che si ammalano. Poi, se c'è una peste bubonica e le persone muoiono per strada è un altro discorso. Allora lì possiamo parlare di emergenza, ma non nel caso in cui, come è accaduto qui, l'emergenza non esiste perché i numeri, e magari Alessandro adesso abbiamo esaurito il tempo, Francesco giustamente ci preme e ha ragione, perché è scaduto il tempo. Però riprendiamo il discorso nei prossimi giorni, se tu sei disponibile, anche Daniela che ci fa piacere che torna qui con noi. Perché comunque di questa cosa dobbiamo parlare, cioè il livello di emergenza esisteva? C'era realmente? Andiamo a vedere bene i dati e ci accorgeremo, perché questo è un lavoro che noi abbiamo già fatto, ma ripetiamo, perché ripetita Juvent, molte persone potrebbero non averlo ascoltato, ma glielo diciamo, che in realtà quell'emergenza non c'era più già dalla fine di aprile e in realtà nella stragrande maggioranza delle regioni italiane non c'è mai stata, mai. Al nord c'è stata un'emergenza per un breve periodo, poi esaurita alla fine di aprile. Ecco, da quel giorno in avanti non è stato fatto nulla. Questo è il problema. Il fuoco va lì, perché poi secondo me tutto questo fumo agli occhi, questi disastri, servono solamente per distrarci rispetto alla identificazione delle reali responsabilità del problema che noi abbiamo oggi, che è quello che diceva poco fa l'avvocato Fusillo. C'è una protezione civile che invece che risolvere i problemi e trovare le soluzioni per difenderci. Cosa fa? Nomina un CTS che dà degli ordini al Presidente del Consiglio che è al di fuori del mandato parlamentare, prende e ci chiude tutti in casa, ci chiude e ci dà gli arresti domiciliari e ci dice di metterci uno straccio in faccia che peraltro la scienza dice che ci fa peggio. Insomma, Alessandro, qui c'è molta carne al fuoco, dobbiamo lavorare su questo, io credo, perché altrimenti non se ne viene fuori. Questa è una cosa che va fatta emergere nelle sedi giuste che sono quelle giudiziarie, cioè di un potere che dovrebbe essere slegato dalla politica che sta sbagliando tutto, ce lo dicono i numeri che abbiamo mostrato prima del tuo intervento e che noi quotidianamente continueremo a mostrare. Per cui è chiaro che questo è un argomento che va tenuto sempre presente e noi ti chiediamo la possibilità insieme a noi di farlo, di darci un po' del tuo tempo per spiegare al pubblico cosa sta accadendo realmente. Molto volentieri, Fabio, lo faccio volentierissimo, è una missione che mi sono preso in questi mesi, tra le altre cose poi se avrai tempo parleremo anche del libro che ho scritto insieme ad una trentina di altri professionisti, Leonardo Facco, Giacomo Zucco, che è uscito a maggio e che trattava proprio di questo, insomma, sono temi che vanno approfonditi. Ecco, voglio dire per chiudere, e poi dammi la linea a Francesco perché ha ragione, poi non ci caccia, che noi stiamo realizzando una versione della Costituzione italiana insieme al professor Michetti, molto bella, commentata articolo per articolo, che vorremmo tutti insieme proporre al nostro pubblico, sarà possibile scaricarla gratuitamente, la versione commentata, oppure riceverla anche a casa stampata con le sole spese di stampa, parliamo di centesimi veramente, qualche euro, due, tre euro. C'è una versione della Costituzione italiana con il commento articolo per articolo dei più grandi costituzionalisti, proprio per far spiegare alla gente che esistono dei diritti e tornare all'educazione civica, materia che molti anni fa è stata cancellata dalle scuole e che noi avremmo piacere che invece venisse recuperata. Alessandro. Ma guarda, è una bellissima iniziativa, io ricordo sempre che l'articolo 1 della Costituzione che tutti conosciamo dice che l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Questi due attributi, cioè la democrazia, quindi la discussione pubblica in Parlamento e il lavoro, sono stati dimenticati. Noi qui abbiamo il Presidente del Consiglio che decide per conto suo e il lavoro che sostanzialmente è vietato in moltissimi settori e in moltissimi ambiti. Questo è gravissimo, bisogna dirlo alto e forte. Grazie. Grazie Avvocato, buona giornata, a presto Daniela, a presto anche con te, a Daniela Martani. Fabio, appuntamento a domani. Appuntamento a domani. Benissimo, grazie, buona giornata a voi.